Mio padre ha aperto questo negozio nel 60. Mio padre sono tre fratelli e fanno tutti e tre lo stesso lavoro praticamente. Vengono gli stranieri che entrano rapidamente e che giustamente vengono a vedere quello che stai facendo. Io dico sempre rallentare pieno pieno perché altrimenti vola tutto. E lo stesso tu, devi respirare in un certo modo, non devi starnutire, se ridi vola appunto. Ognuno usa delle lecchiche diverse, per cui c'è chi lavora con le velature d'acqua, chi lavora con le velature a cera, insomma, quindi queste cose poi ho preferito anche andare altrua di imparare. Per lo più velatura, decorazione, i finti marmi, le chiese, l'altare che magari ha il fondo, il filtro marmi. Grazie a tutti!